Ma non solo. La tendo struttura inaugurata dall'amministrazione comunale di Veroli sarà una risorsa anche per tante associazioni sportive del territorio. Il taglio del nastro c'è stato in mattinata, durante una cerimonia che ha visto anche la partecipazione dei piccoli studenti, sia quelli del secondo istituto comprensivo che i bambini della scuola dell'infanzia Santa Caterina da Siena. La struttura è stata realizzata con fondi del bilancio comunale grazie ad un finanziamento del credito sportivo. È costata 290.000 euro. Una bella soddisfazione poter consegnare una struttura moderna e polifunzionale ai ragazzi di questa scuola, ma in realtà la consegniamo all'intera comunità di Veroli, proprio perché sarà la casa delle tante associazioni, delle tante società che fanno giocare, fanno sì che tanti ragazzi si avvicinino allo sport. Un'opera le cui basi però erano state già poste durante la passata amministrazione guidata da Giuseppe Donorio. Un'opera che rientrava nella collocazione di dare degli strumenti idoni alle scuole, con palestre che potessero essere funzionali proprio in funzione delle esigenze dei bambini. Una struttura in cui sarà possibile praticare diversi sport, dal basket alla pallavolo, dalla pallamano all'hockey, ma presto a Veroli ci saranno altri importanti tagli del nastro. Nei prossimi mesi andremo ad inaugurare un'altra due importanti strutture sportive. Una tenso struttura con circa 300 posti a sedere, con un parquet che sarà utile per far sì che le società del nostro territorio possano disputare campionati in una struttura adeguata e soprattutto il nuovo palazzetto dello sport che nel nuovo anno consegneremo finalmente alla città di Veroli.